Due giorni fa, la mia vita era semplice e bellissima. Ora è un incubo. I'm going hunting. I'm the hunter. Tu chi sei? Il mio nome è Sarah Connor. Non ho mai visto una come te prima d'ora. Quasi umana. Io sono umana. Perché ti importa cosa le succede? Perché io ero lei. Come vinciamo? Vinciamo tenendoti in vita. Vinciamo tenendoti in vita.